salve miei cari amici e miei cari fratelli facciamo un nuovo video perché vorrei parlare di un passo che nel passato mi ha fatto un po riflettere e che ancora diciamo non avevo avuto una precisa rivelazione perché la parola del signore il signore la rivela passo passo e questo passo ve lo vorrei leggere e nella parola di dio per l'esattezza in prima di modio 3 16 dove l'apostolo paolo si esprime così e senza aver una contraddizione grande è il mistero della pietà il dio è stato manifestato in carne è stato giustificato in ispirito è apparso agli angeli ed è stato predicato ai gentili è stato creduto nel mondo è stato elevato in gloria per dedicare la frase che nel passato mi ha fatto un po riflettere era questa è stato giustificato in ispirito io non so quanti di voi hanno riflettuto su questo passo perché la maggior parte di quelli che vanno avanti indietro con le bibbie sotto il braccio nelle comunità è molto superficiale questa frase mi ha fatto tanto riflettere però il signore proprio ieri sera mi ha parlato e me l'ha spiegato noi sappiamo che giustificare qualcuno è come se qualcuno ha tra virgolette una colpa ma dio ovviamente non ha colpa poi troviamo anche una frase che può lasciarci anche un po perplesso dopo il peccato dio si esprime dicendo che si era pentito da avere fatto l'uomo e che era molto addolorato nel suo cuore il pentimento è come se qualcuno se ne accorge di aver sbagliato lungi dal pensare che dio ha sbagliato ma che significa è stato giustificato in ispirito come e perché fratelli cari che quando eravamo ragazzini andavamo a scuola se marinavamo la scuola avevamo bisogno della giustificazione che il nostro padre o chi per lui il tutore nostro firmava sta giustificazione diceva sì so che mio figlio non è venuto a scuola per validi motivi e giustificava la nostra assenza ora dobbiamo comprendere e non abbiamo capito tante cose tantomeno neanche io non ho minimamente la l'arroganza di dire che ho capito tutto perché la parola di dio dice che possiamo comprendere in parte e non so a quante di voi interessa comprendere perché questo dopo 33 anni ringrazio il signore che mi ha rivelato questo allora dice senza contraddizione grande è il mistero della pietà l'apostolo paolo in altri versi si esprime dicendo che gli sono stati rivelati dei misteri e noi ministri siamo dispensatori dei misteri di dio perciò dio si rivela ai suoi profeti ai suoi dottori ai suoi ministri e praticamente i suoi ministri poi dispensano la rivelazione di questi misteri e pertanto visto che dio mi ha rivelato questo sono qui per dispensarlo pure a voi ora ci parla di mistero della pietà fratelli cari questa cosa non le insegnano alle scuole bibliche queste scellerati perché dio che può rivelare se stesso ma che cos'è questo mistero della pietà dio ha avuto pietà dell'uomo che dopo il peccato è stato privo della grazia di dio e perciò il signore rivela questo mistero ora dio è stato manifestato in carne e questo significa che gesù era vero dio attenzione che molti vogliono negare la deita come gli scellerati dei testimoni di genova di melano e di torino vogliono negare la deita quando già la parola di dio lo dice chiaramente il dio è stato manifestato in carne e giustificato in ispirito la parola chiave è giustificato in ispirito che significa ora noi dobbiamo discernere tra è sempre un tutt'uno la proiezione dell'uno nell'altro dobbiamo discernere tra lì dio creatore e il signore di questa creazione che non è altro che l'immagine dell'idio creatore l'uomo del sesto giorno il quale poi si è incarnato nel primo genito ed unigenito cristo gesù e ha preso sembianze umane si è incarnato e manifestato in carne come abbiamo già letto fratelli cari e se prendete la bibbia e controllate pure voi è buona cosa perché molte sono totalmente poltroni pigri non investigano si accontentano vogliono vogliono tutte le pappine servite sul tavolo e imboccate col cucchiaino molti non fanno ricerche nella parola di dio non investigano non pregano non cercano la verità e vogliono portata la verità soltanto dagli altri ma non la cercano fratelli cari investigate e controllata nella parola di dio se vi sto dicendo stupidaggini perché voi siete ingannati perché non controllate le scemenze le stupidaggini che vi dicono i vostri pastori e pastorelli del presepe perciò e senza alcuna contraddizione grande è il mistero della pietà dio ha avuto pietà di noi e c'è un mistero è una pietà una pietà misteriosa una pietà arcana una pietà non facilmente comprensibile alla mente umana perché per noi a volte la pietà è quasi un po' una cosa di riprezzo quello mi fa pena mi dispiace mi fa un po fa pietà ecco la pietà di dio e l'amore a dedicare perché dio ha avuto amore ha amato la sua creatura che nel mondo poi si è corrotta e si è manifestato in carne ha preso sembianze umane giustificato in spirito allora dobbiamo comprendere di quale dio qui stiamo parlando non è che ce ne siano tanti è sempre lo stesso dio proiettato manifestato come creatore e manifestato come con la sua immagine come signore di questa creazione però il creatore è al di fuori e nell'eternità il signore di questa creazione cioè l'uomo del sesto giorno e in questo spazio tempo infatti troviamo i giorni della creazione il sesto giorno cioè la proiezione dell'eterno dentro lo spazio tempo capisco che non è facile comprendere neanche spiegare queste cose ma è difficile anche per me perché mi sono chiare ma è difficile spiegarle fratelli cari con parole umane perché noi siamo legati allo spazio tempo e il concetto dell'eternità che in ecclesiaste dice che il signore l'ha messo nel cuore degli uomini anzitutto l'ha messo nel cuore degli uomini che vengono dall'eternità e perciò i figli di dio veniamo dall'eternità non apparteniamo a questo mondo a questo tempo spazio e il signore attraverso il suo spirito ci rende partecipi dei suoi misteri perciò lì dio si è manifestato in carne cioè il padre l'uomo del sesto giorno il quale doveva riempire la terra clonando se stesso si è poi manifestato in carne gesù viene come il secondo adamo ma che significa che dio doveva essere giustificato in spirito perché fratelli potete leggerlo nella bibbia quando l'uomo del sesto giorno il dio ed il signore di questa creazione forma adamo dalla polvere della terra mette in lui il suo soffio di vita e divenne anima vivente attraverso che cosa lo spirito vivificante che mise in adamo e divenne anima vivente non aveva i corpuscoli era il soffio del plasma dell'uomo del sesto giorno che aveva formato adamo che non era un suo clone perché adamo veniva dalla polvere della terra invece l'uomo del sesto giorno era idrogeno e non veniva dalla polvere della terra pertanto una porzione dello spirito di dell'uomo del sesto giorno fu immessa in adamo nel momento in cui adamo prima eva e poi adamo che tutte e due avevano la porzione di spirito che l'uomo del sesto giorno aveva messo in adamo peccarono a questo plasma si aggiunsero le particelle i corpuscoli e praticamente le vibrazioni dei corpuscoli che erano legate alle vibrazioni dell'albero della conoscenza del bene e del male e i corpuscoli che rendono rosso il nostro sangue e la metamorfosi che ebbe prima ma eva e poi adamo quel sangue divenne sangue di peccato e pertanto quella vibrazione fu trasferita anche al soffio dell'uomo del sesto giorno che aveva messo in adamo pertanto quella porzione di spirito che aveva soffiato l'uomo del sesto giorno fu contaminato non fu contaminato l'uomo del sesto giorno perché egli non commise peccato ma quella porzione di spirito di soffio che aveva messo quel plasma che aveva messo in adamo ed eva era se così possiamo dire la metà di adamo e portava parte di quello stesso soffio fu contaminato pertanto quella parte possiamo dire di quel pixel di dio aveva una distorsione ora il creatore aveva messo l'immagine di se stesso dentro questa creazione l'aveva costituito signore di questa creazione su tutta la creazione perciò che succede succede che e come porto un esempio io ho un corpo perfetto non è il caso mio ecco e c'ho un problema soltanto ad un dito tutto il mio corpo è perfetto ma c'è questo problema e allora non sono io ad avere peccato ma questo dito lo possiamo paragonare ad adamo è entrato in una vibrazione diversa ed è come dire se questo dito ha peccato e perciò il plasma di questo dito ha una vibrazione diversa da tutto il plasma del mio corpo allora io mi ritrovo con un corpo che ha un'imperfezione non a causa mia perché ho peccato io io sono perfetto sto parlando per esempio non si tratta di me ma questo dito è imperfetto allora io devo giustificare questa imperfezione e fare in modo che divenga perfetto gesù è venuto come il secondo adamo perciò l'uomo gesù ha giustificato in se stesso dio il padre l'uomo del sesto giorno da quell'imperfezione che era venuta attraverso la disobbedienza di eva e poi adamo che aveva portato quel plasma ad una vibrazione diversa a una corruzione perché adame ed eva si corruppero ora gesù è venuto per giustificare in ispirito quella parte dello spirito del padre che aveva soffiato in adamo e che adamo l'aveva corrotta attraverso il peccato non so se fin qui è comprensibile perciò in gesù lo spirito umano seguitemi attentamente era quello che era stato in adamo e in eva e perciò lui vero uomo e vero dio benedetto in eterno il nostro signore cristo gesù è venuto con un corpo di carne e sangue simile a carne di peccato ma senza peccato perciò portava l'impronta della dissonanza vibrazionale nel dna spirituale cioè nel plasma e portava l'impronta anche nel dna terreno carnale che era l'impronta di carne e sangue del dna mitocondriale di maria e quello nucleare di giuseppe però egli non conobbe peccato perciò quello spirito fu purificato dall'ubbidienza di gesù e giustificò anche quello spirito umano che era dentro di lui e che poi al alla croce quando spirò che pagò quel prezzo dio pagò il prezzo del riscatto di se stesso venendo in carne infatti gesù disse padre ricevi il mio spirito perché lo spirito umano di gesù era il riscatto dello spirito di adamo ed eva insieme che avevano peccato ecco perché noi siamo il corpo di cristo come eva era il corpo d'adamo ecco perché gesù è lo sposo perché il primo sposo adamo insieme a sua moglie eva peccò perché loro non erano stati chiamati ad unirsi carnalmente a procreare nella carne ma quel peccato fu la conseguenza della manipolazione genetica che subirono prima eva e poi adamo accostandosi all'albero della conoscenza del bene e del male perciò c'era bisogno che dio fosse giustificato in spirito perché lo spirito è codificato nel plasma infatti noi poi che cosa vediamo vediamo che cristo gesù quando spira troviamo vediamo che dal suo costato esce acqua e sangue c'è una netta separazione dalle vibrazioni carnali dal sangue dai corpuscoli dal plasma c'è praticamente quel plasma quello spirito ritorna al padre e può ritornare al padre perché santo come lo è lo spirito del padre che è santo e perciò quella parte quel pixel dello spirito dell'uomo del sesto giorno è stato riscattato giustificato dal sacrificio di cristo affinché tutto ritornasse nel piano dell'idio creatore infatti le ultime parole di gesù furono tutto è compiuto in cristo gesù è stato compiuto è stata compiuta la giustificazione di dio stesso di quel pixel di quella porzione del suo spirito dissonante ed è stata compiuta anche la giustificazione dello spirito della chiesa che è il parallelo di eva e perciò cristo gesù ci ha giustificati dice poi il romano capitolo 8 chi accuserà gli eletti di dio sono stati giustificati da cristo gesù perciò dio ha giustificato se stesso venendo in carne e soffrendo il sacrificio sulla croce attraverso il suo figliuolo cristo gesù quale amore quale pietà fratelli cari avrebbe potuto distruggerci fratelli cari ma se ci avesse distrutto e avesse distrutto questa creazione se così possiamo dire avrebbe distrutto ciò che aveva fatto l'idio creatore e invece no la perfezione di dio è il riscatto e il riportare tutto come la prima fratelli cari riportare tutto nell'ordine è stato manifestato in carne dio perciò gesù era vero dio e vero uomo benedetto in eterno e è apparso agli angeli e perciò fratelli cari il signore nel fare questo fratelli cari è apparso agli angeli anche in carne e noi già vedevamo che nel vecchio testamento vedevamo l'uomo del sesto giorno che si presentava anche insieme agli angeli fratelli cari infatti ad abramo si presentarono tre uomini e abramo ad uno lo chiama signore mio poi due uomini due angeli vanno a sodoma e gomorra per distruggere poi quelle città la città scellerata e perciò il signore l'uomo del sesto giorno è un multiforma che assumeva anche sembianze sembianze umane ma non era nato da donna e siccome la con la contaminazione fu proprio quella il sangue il nascere secondo la carne infatti poi anche gesù fa una distinzione tra i nati da donna ma questo è un altro discorso perciò gesù poi ritorna in gloria al padre ed appare agli angeli come secondo adamo cioè lui ha già compiuto questo piano di salvezza anche per la sua sposa che è il parallelo di eva chi accuserà gli eletti di dio saranno questi quattro fitusi questi spiriti immonti questi religiosi che colgo l'occasione per cacciarli via nell'abisso nel nome del signore cristo gesù chi accuserà gli eletti di dio quattro troll quattro scimuniti mi accuserete voi fratelli cari noi siamo ristati riscattati da cristo perciò non abbiamo paura non indietreggiamo andiamo avanti nel nome del signore cristo gesù sono loro che devono indietreggiare fratelli cari non ci lasciamo intimorire dalle loro minacce il signore con noi siamo il corpo di cristo siamo l'armata del signore qui su questa terra fratelli cari ma dobbiamo averla questa consapevolezza devi avere questa consapevolezza che il tuo spirito è stato giustificato da dio stesso dio ha giustificato se stesso e noi che cosa siamo siamo la chiesa dei primogeniti ci dice la parola di dio perché noi siamo stati innestati nel primo genito in cristo gesù fratelli cari e dice che questo apparire agli angeli ed è stato il dio è stato manifestato e predicato ai gentili fratelli cari ai pagani ed è stato creduto nel mondo cristo gesù ed è stato elevato in gloria noi attraverso lo spirito di dio abbiamo il dna di dio i figli di dio nasciamo col nostro plasma dove codificato il nostro spirito fratelli cari perché la parola di dio ci dice che lo spirito è un vapore fratelli cari fratelli cari il plasma e acqua e siero e pensiero fratelli cari molta cosa ancora non abbiamo capito fratelli cari l'idrogeno è generatore di acqua idrogeno idro fratelli cari fratelli cari fratelli cari fratelli cari fratelli cari non abbiamo compreso che tutto è compiuto che Cristo Gesù ci ha riscattati e ha se così possiamo dire tra virgolette riscattato quella parte di se stesso che non era altro che lo spirito il soffio vitale che fece divenire anima e vivente ad amo e perciò ad amo si era corrotto e lo spirito in lui si era corrotto fratelli cari perché divenne trino prima era fatto di corpo e spirito e aveva la vita nello spirito dopo ebbe la vita come ce l'abbiamo tutti noi e anche gli animali perché ci fu una metamorfosi totale in tutta la creazione ebbe vita come ce l'hanno vita gli animali nei corpuscoli del sangue infatti dice l'anima è nel sangue ecco perché bisogna non bisogna mangiare la carne col sangue il sangue non è altro che l'insieme dei corpuscoli e del plasma perciò il peccato ha portato questa risonanza mescolata è come dire abbiamo soltanto dell'acqua ha un colore i colori sono frequenze l'acqua diciamo ha un colore neutro trasparente cristallino dovrebbe essere se ci mescoliamo il sangue i corpuscoli quindi quell'acqua diventa rossa e perciò quell'acqua ha un'altra risonanza e perciò lo spirito la completezza dello spirito che era nell'uomo del sesto giorno e che aveva inalato nelle narici di Adamo fatto dalla polvere della terra era stato inquinato col sangue si era mescolata l'acqua al sangue ecco perché in Cristo Gesù quando spirò dal suo seno uscì acqua e sangue Dio doveva essere giustificato da se stesso fratelli cari doveva riscattare quella parte del suo spirito che si era corrotta ecco perché leggiamo giustificato in spirito perché il suo spirito doveva essere giustificato fratelli cari noi siamo stati salvati dal sangue di Cristo ma siamo stati salvati dal plasma di Cristo fratelli cari Cristo Gesù quando risuscitò non aveva il sangue però lui viveva e mangiava ebbe poi un corpo incorruttibile fratelli cari perché Adamo ed Eva erano stati fatti incorrotti ma non incorruttibili fratelli cari e perciò Dio ha giustificato se stesso in spirito vi lascio leggendo nuovamente questo passo che è in 1 Timotio 3,16 Paolo dice così e senza aver una contraddizione grande è il mistero della pietà e io in questa sera vi sto spiegando questo mistero perché mi è stato spiegato dal Signore fratelli cari è un mistero grandissimo che molti non comprendono e sino a ieri ancora non l'avevo capito io in profondità perciò grande è il mistero della pietà questo è il mistero della pietà fratelli cari di quelli che appartengono a Dio non se ne perde neanche uno e sta scritto il Signore tornerà quando sarà compiuto quel numero fratelli cari e noi in Cristo Gesù siamo la chiesa dei primogeniti fratelli cari il Dio è stato manifestato in carne è stato giustificato in spirito è apparso agli angeli è stato predicato ai gentili è stato creduto nel mondo ma non da tutto il mondo nel mondo solo dei Suoi è stato elevato in gloria quel Dio incarnato nel Signore nostro Cristo Gesù sta per ritornare in gloria fratelli cari io lo aspetto fratelli cari non so voi chiedete allo Spirito Santo infatti cosa dice il Signore stesso la Chiesa inizia lì nell'alto solaio e dice il Signore questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto e se tu hai creduto devi avere i segni che accompagnano coloro che avranno creduto devi essere ripieno di Spirito Santo affinché il tuo Spirito umano si conformi allo Spirito Santo fratelli cari è questo che molti ancora non hanno capito blaterono qualche parola gente posseduta da spiriti immondi che pensa di essere battezzata di Spirito Santo gente che non ha ricevuto lo Spirito Santo è soltanto religiosa e non ha i segni e pensa di essere già arrivata ma non è manco partita anzi è partita di testa fratelli cari gli spiriti religiosi hanno ubriagato l'umanità e hanno fatto credere a tutti di essere a posto io vado in Chiesa con una Bibbia sotto il braccio e tutto a posto fratelli cari sono giustificati soltanto i figli di Dio e nessuno ne potrà aggiungere o togliere uno fratelli cari i figli di Dio sono quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello fratelli cari i figli di Dio sono quelli che fanno parte del corpo di Cristo mettete da parte tutte le barzellette che vi raccontano questi infami maledetti da Dio religiosi e la falsa scienza ravvedetevi fratelli cari il Signore sta tornando ti senti tu veramente pienamente giustificato che c'è tanta gente che si sente sempre colpevole c'è tanta gente che manca di autostima perché non si sente giustificata da Cristo sei sicuro che Cristo ha pagato per te sei sicuro di essere corpo di Cristo o sei il corpo di ballo di questi sballati scellerati che fanno spettacoli che fanno spettacoli posseduti che cadono a terra benini buttano le giacche quello fa questo quello fa l'altro tutti scellerati i preti che ballano nelle comunità nelle chiese quell'altro lirio porrello le gente che cadono a terra ridono la risata nello spirito quanti demoni si stanno sbellicando dalle risate con le diavolerie che voi fate sei tu giustificato sei stato giustificato dal sangue di Cristo hai ricevuto tu la potenza che viene dall'alto hai come segno la potenza dello spirito di Dio e cacci via nell'abisso nel nome del Signore Cristo Gesù i demoni hai questa autorità o i demoni e le larve mentali ti portano a spasso qua e là chieditelo perché ora si sta per vedere si vedrà chi serve Dio e chi non serve Dio si vedrà chi l'ha conosciuto e chi non l'ha già mai conosciuto si vedrà pure chi è il simpatico vecchietto se è un palso profeta come mi hanno fatto tutte queste barzellette e queste derisioni si vedrà e molti grideranno montagne cadeteci addosso scampateci dall'ira di Dio ma non vi scamperanno i monti non ci sarà posto dove vi potrete nascondere maledetti da Dio gli impostori che avete ingannato tutta l'umanità vi fate baciare la mano scimoniti voi e loro pagherete caramente tutto questo l'ira di Dio è sulla faccia della terra chi scamperà l'ira di Dio chi scamperà il Signore vi scoperà vi tirerà fuori con i canci con gli uncini vi tirerà fuori e vi sarà il pianto e lo stridol di dente fratelli cari io so in chi ho creduto lo diceva l'Apostolo Paolo pure fratelli cari ed è reale tutto questo fratelli cari è importante capire che il Signore sta tornando poi chi vuole credere creda chi non vuole credere non creda fate tutto quello che vi pare piace ma sappiate che dovrete rendere conto a Dio di ciò che avete udito di ciò che questo simpatico vecchietto che molti deridono vi ha annunciato io sono la voce di uno che grida nel deserto quanti vorranno udire la voce di quest'uno che grida quest'uno che grida dentro di me da 33 anni e mi fa annunciare la verità la parola del Signore quanti crederanno fratelli cari riguardate le cose del regno di Dio c'è poco da screzzare fratelli cari i giudizi sono già sulla terra c'è l'ira di Dio e tempo fa il Signore ci parlò in profezia e ci disse che avrebbe abbassato la mafia vedete cosa sta succedendo cos'è accaduto in Sicilia in Calabria in Campania in Puglia e anche in Basilicata vedete cosa sta avvenendo fratelli cari altro che la geo-ingegneria come vi dicono questi quattro posseduti e venduti ai rettiliani così come lo sono tutti i mass media è l'ira di Dio che si sta abbattendo sulla faccia della terra sì è normale che il deserto in Arabia diventa un mare è normale tutto questo per gli anormali è normale tutti gli incendi e la devastazione in California ancora non avete visto niente quello che Dio ha preparato qui per l'Italia tutto sta scoppiando e sta saltando in aria fratelli cari i giudizi di Dio sono sulla faccia della terra chi ha orecchio da udire oda ciò che lo spirito dice alla chiesa chi non ha orecchio da udire continua ancora lo stessa che era la chiesa che era passata il montello dell'uomo di Bapia e Criata e non ha il montello di voce che era edzio di Cristo e la città del sole per il canto e la mafia si tratta di un bandito in Acreia. La mafia si tratta di un bandito in Acreia, e la mafia si tratta di una cruda di Sera e Monedecra. La mafia si tratta di un giro di Dio e di una bastia Italia e si tratta di un bandito in Vaticano. La mafia si tratta di un nero, che ha salvato la p branchesile, Sì, non è vero, non è vero. Alleluia, gloria a Gesù, benedetto sia il tuo nome. Signore, glorifica te stesso, Signore, manifesta la tua gloria, Signore, fai tremare il cielo e la terra la tua parola, Padre, raduna la tua chiesa, raduna il tuo popolo, Signore Dio d'amore, e dacci grazia che ciascun di noi abbiamo timore di te e non degli uomini, Signore. E noi vogliamo prendere autorità e potestà contro ogni cosa che non ti appartiene e la cacciamo via nell'abisso nel nome del Signore Cristo Gesù. Chiunque voi siete, andate via nel più profondo degli abissi. Gloria a te, Signore. Alleluia. Miei cari fratelli, un caro saluto, un abbraccio a voi tutti. Lo so che i miei video non rientrano nella normalità dei lobotomizzati, fratelli cari. Sarò un eretico, fratelli cari, perché ho la mente di Cristo e Cristo vive in me. E mi dice di gridare, parla e non tacere. Chi ha orecchio da udire, udrà ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Alla prossima, sempre se una prossima ci sarà, e non viene il Signore prima. Pace del Signore a voi tutti. Alla prossima, sempre se una prossima ci sarà, e non viene il Signore a voi tutti.